Bella, sembra nuova. Ora bisogna far asciugare bene la resina. Poi domani mattina una carteggiatura fine fine e la vernicio. E Marina dov'è? È ancora arrabbiata con me? Credo di sì. Oggi non si è fatta vedere. Io non c'entro nulla con quello che ha detto mio padre. Lo so, ma lei è molto ostinata. Non si è ancora convinta del tutto dalla tua nascenza. Così non mi dè speranza. Ma no, non puoi neppure immaginare come si è arrabbiata con me quando gli ho confessato che da giovane ho causato molti danni ai posidoni. Tu? E come? Ancorandoci sopra la barca. Ma soprattutto con la pesca strasica. Ogni giorno eravamo chilometri di costa distruggendo le praterie di posidoni, strappando via le piante e danneggiando la nostra stessa attività. La pesca? Sì, i giovani di moltissime specie di pesci, crostacei, bolluschi, ci crescono al sicuro dei predatori. E una volta grandi si possono pescare in mare aperto. Marina non ha parlato per mesi, ma poi ha capito che lo facevamo per ignoranza. E così ha deciso di lottare contro l'ignoranza. Io gli ho dato una mano finché poterlo. E alla fine lei mi ha perdonato. E se ha perdonato me, puoi farci anche tu. E se ha perdonato me, puoi farci anche tu. E se ha perdonato me, puoi farci anche tu. Grazie.